Grazie allora Gianluca Curti, presidente di Minerva Pictures Group, il premio viene consegnato da Pietro Di Misceli, commissario straordinario della fondazione Taormina Art Sicilia. Applauso per Pietro Di Misceli che arriva a compiere il premio. Ormai fatelo tutti perché porta bene, guardate, fare una prova con il nostro microfono porta bene. E quindi anche ai nostri funzionari chiediamo questa prova, le chiedo di consegnare il premio come miglior produttore a Gianluca Curti, di Michele affidato sempre e poi le do il microfono che funziona questa volta per il suo commento, ormai la prendo a ridere. Io vi ringrazio per la bella serata, mi avvio a completare il mio lavoro, speriamo entro l'anno di chiudere con questa lunga procedura di trasformazione in fondazione e quindi poi colgo l'ospicio del sindaco e dell'assessore perché riprende il proprio corso splendido alla 65esima edizione, qui vi do a tutti appuntamento. Grazie, mi piace questo impegno che stasera state prendendo e stiamo prendendo, grazie anche alle parole di Curti, per questo film, per questo festival che non deve assolutamente morire perché Taormina è stata sempre una delle capitali internazionali del cinema. Siamo, Taormina è un festival straordinario, conosciuto in tutto il mondo, dagli Stati Uniti non aspetta un altro che una chiamata di Silvia e di Gianvito per portare film importantissimi e anche le più importanti maggiori americane, quindi sarebbe una follia il pensare che Taormina non tornerà a essere un protagonista a livello mondiale, quindi auguri, in bocca al Luca e buon lavoro. Grazie a Luca Curti, viva il cinema e viva il festival. Grazie a Dottore Di Miceli, grazie di cuore.